Musica Vediamo ora come programmare Last 1 Facciamo freccia, impostazioni, C2, programma, ok, nuovo, ok, notte, ok. Come selezionare le notti? Con il tasto ok seleziono la notte corrente e passo a quella successiva, mentre con il tasto C2 passo la notte successiva senza selezionare la notte corrente. Quindi voglio selezionare la notte tra lunedì e martedì, ok, tra martedì e mercoledì, ok, mercoledì e giovedì, giovedì e venerdì. Deseleziono tutte le altre, quindi le escludo. Conferma, il mio carico sarà acceso tra la notte di lunedì e martedì fino alla notte tra giovedì e venerdì, le altre saranno escluse. Ok Tipologia di programmazione Primo caso, accensione al tramonto, spegnimento all'alba. Spento dal tramonto all'alba Accensione durante la notte, spegnimento durante la notte, riaccensione durante la notte e spegnimento all'alba. Quarta possibilità, accensione al tramonto e spegnimento durante la notte. Oppure Accensione durante la notte e spegnimento all'alba. Torno indietro, scelgo la mia programmazione. Scelgo di interrompere durante la notte con orario. Ok Posso scegliere orario In alternativa, ritardo, quindi accensione al tramonto e spegnimento dopo un intervallo di tempo impostabile. Oppure con impulso, accensione al tramonto e all'alba per breve periodo. Torno indietro, abbiamo detto orario. Ok Con C2 vado a scegliere l'orario di interruzione. Alle 22 Ore Minuti Ok Voglio che si riaccenda alle 5 Ok Ok Programma salvato Torno indietro sulla pagina principale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti